Riparte da sabato 10 marzo su Rai 1 l'appuntamento con il dance show di Ballando con le stelle. Tredicesima edizione quest'anno dedicata a Bibi Ballando, che ha fortemente voluto fin dall'inizio lo spettacolo. 13 VIP in gara guidati da vere star internazionali della danza, 13 storie sorprendenti tra attori, modelli, musicisti, sportivi. Al timone l'immancabile Milli Carlucci, con tante novità. Non possiamo ripetere cose già fatte, cioè schemi o movimenti o intrecci di storie, perché poi ognuno si porta la propria storia e quindi è complicatissimo. 10 appuntamenti con un cast agguerrito che si sfiderà ogni settimana per raggiungere la meta finale. Tra gli altri Jessica Notaro, miss sfriggiata dal suo ex. Carlucci spiega. È ancora una volta un pezzo della nostra vita, della nostra storia, su cui io credo sia importante fare un'operazione di noi ci siamo. Noi siamo, ovviamente io sono donna, non potrei non esserci con le donne che subiscono violenza. Ma al di là di questo, anche per dire, succedono delle cose orribili nella vita. C'è una strada per riprendere a vivere e dobbiamo riprendere a vivere, dobbiamo non mollare la speranza. Ecco, questo è Jessica. Molte le prove da affrontare con diversi stili di danza. Balli caraibici, latinoamericani, tango e anche prove a sorpresa. Tra i concorrenti anche Cesare Bocci, il vice di Montalbano. Avevo paura di una cosa che non sapevo fare. Mi avevano detto, guarda, fallo perché è proprio divertente, è tanto faticoso. Non potevo immaginare fosse così divertente e così faticoso. Il ballo? Me la cavo, diciamo che me la cavo. Però quando viene un passo è una soddisfazione incredibile. È appassionato, è entusiasta. Sul palco anche Eleonora Giorgi. Non sono sicuramente dotata per il ballo, ma ho un grande perseveranza e carattere e voglio riuscire a farcela. Spero solo che la giuria sia sufficientemente comprensiva la prima puntata, perché io posso essere proprio il tipico personaggio che cresce. Per la prima volta sul palco un uomo ballerà con un altro uomo. È Giovanni Ciacci. Questa competizione mi aspetto solo di vincere. Non temo nessuno perché sono l'unica star di questo programma. Tra gli altri concorrenti anche Amedeo Minghi, Stefania Rocca, Don Diamond, Akash. Sul palco Paolo Belli è la sua big band, mentre la giuria sarà composta da Guglielmo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Caroline Smith.